Una superficie di 22.000 m2, un'altezza di 133 e 10.000 m2 di mosaici, oltre alle innumerevoli opere d'arte. Sono alcuni dei numeri che contraddistinguono la Basilica di San Pietro, i cui lavori di costruzione iniziarono nel 1506 con Papa Giulio II, per concludersi 120 anni dopo durante il pontificato di Urbano VIII. Solamente fra il 1656 e il 1667, invece per volere di Alessandro VII, Gian Lorenzo Bernini progettò e realizzò il grande portico colonnato di Piazza San Pietro con al centro l'obelisco del I secolo a.C. Costruita dopo quella voluta da Costantino, la Basilica Vaticana rappresenta il cuore della cristianità perché si erce sulla tumba dell'Apostolo Pietro. Con noi Pietro Zander della fabbrica di San Pietro. La magnificenza della Basilica, questa maestrosità, questa grandiosità della Basilica si spiega perché tutto è nato su quanto di più umile si possa immaginare. Un'umile fossa scavata nella terra dove è stato sepolto San Pietro. E poi naturalmente deve cercare non di vedere tutto, ma di cogliere alcuni aspetti della Basilica. Dico questo, all'inizio la Basilica di San Pietro può anche risultare, può anche non piacere, è incredibile a dirsi, può risultare non bella. E questo perché? Perché è tanto grande che non la si riesce a contenere nella mente, per la sua spazialità, per la sua superficie, ma anche per la sua storia. È una storia troppo lunga che difficilmente la si riesce a comprendere. Quindi si può rimanere disorientati di fronte a tanta grandezza. Ma poi tornando e osservandola più attentamente nei particolari ci si accorge come tutto è perfetto. Come in questa Basilica, anche sul piano iconografico, pur non essendoci un progetto unitario, ogni immagine si lega all'altra e tutte le immagini concorrono a trasmettere una catechesi, a fare una catechesi per immagini e quindi a verificare la fede. Bramante, Raffaello, Michelangelo, Maderno, Bernini, sono innumerevoli gli artisti che nei secoli hanno offerto il proprio contributo alla creazione di questa straordinaria Basilica, meta ogni giorno di migliaia di fedeli. Forse l'artista che quest'anno più degli altri va ricordato è Michelangelo Buonaroti. Perché Michelangelo Buonaroti? Intanto perché quest'anno ricorrono i 450 anni dalla morte del grande maestro. E poi perché Michelangelo Buonaroti è presente nella Basilica in due momenti fondamentali. All'inizio della sua carriera con la celebre, la bellissima e commovente e veneratissima scultura della Pietà realizzata alla fine del 400, nel 1499, quando Michelangelo aveva poco più di 23 anni. E poi la cupola che vedete alle mie spalle, quindi la cupola di San Pietro che è l'ultima opera di Michelangelo in San Pietro, quando lui ormai vecchio diviene l'architetto della fabbrica di San Pietro e lavorerà all'architettura della Basilica, al completamento della Basilica e alla cupola. Non la vedrà mai finita, ma vedrà ultimato il tamburo della cupola. Quindi Michelangelo è senza dubbio il primo dei maestri che vanno ricordati, ma poi sono tantissimi, a cominciare dagli artisti del 400 a, ecco, ricordiamo Bernini, tutte le opere barocche riconducibili a questo grande artista, architetto e scultore, ma ovviamente ricordiamo anche i grandi maestri del 700. All'interno della Basilica di San Pietro, divisa in tre navate, convivono alcune delle opere più celebri al mondo, dal baldacchino del Bernini, trionfo dell'età barocca, alto quanto un edificio di dieci piani, al monumento funebre di Alessandro VII, dalla porta di Giacomo Manzua, le sculture poste vicino all'altare fino alla statua di San Pietro, risalente secondo la tradizione al V secolo. Pagine di storia che si arricchiscono ogni volta che vengono sfogliate per un restauro o un nuovo studio. Penso alle recenti ricerche di archivio, proprio sulla statua della Pietà di Michelangelo, che hanno rivelato ad esempio un'incoronazione di questa statua quattro anni dopo la morte del maestro. Un fatto che non si sapeva è che una carta di archivio ci ha rivelato. Penso anche ai restauri bellissimi, recentissimi, che abbiamo portato a termine per la Madonna, la Mater Ecclesie, la Madonna della Colonna e la Madonna Gregoriana. Penso anche al restauro della Necropoli Vaticana. Sapete che sotto la Basilica c'è una Necropoli precostantiniana all'interno della quale si trova l'umile tomba di San Pietro. Ecco, in questa Necropoli, restaurando uno di questi mausolei della Necropoli, abbiamo per esempio trovato i simboli della triade capitolina, nella forma del trono vuoto di Giove, di Giunone e di Minerva. Un ritrovamento importante che non ci si aspettava di trovare sotto San Pietro. Quindi i lavori, i restauri sono un'occasione continua di riscoperta e di novità per la Basilica e per il mondo.